Noi dobbiamo sentire sempre, noi dobbiamo passare dalla sofferenza, anche quando sempre che le cose vanno giusto e poi succede sempre qualcosa, ma anche quello che è successo in passato probabilmente ci ha abituale, ci ha preparati, in momenti di difficoltà stiamo parlando soprattutto nel match di Di Arnaldi, 75-52 sopra, 5-3 servizio, ha passato un po' la guardia, però poi in un secondo set, comunque è stato bravissimo rimanere nel terzo e a gestire anche la qualità di Montello che, come sappiamo, il Davis funziona, i giocatori non rispecchiano poi le cose che hanno, da parte il contegno di Matteo, da parte l'occhio, da parte la scelta, la scelta, la scelta, la scelta, la scelta, la scelta in secondo, l'ha fatto, e Matteo, da giocatore, ha gestito anche la bestia di tutti i match e poi ritrovarsi quando è stato solitato, sarà un ragazzo che ci ritroveremo tra virgolette tra i piedi, per un po' di meno, anzi a gestire anche i giocatori, magari forse, non sapevo di nuovo, anche per avere questi due, magari presti, domenica. Vediamo come stanno queste nove, per fortuna, Grazie. 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 Grazie.